Alle vostre orecchie umane, il Maestro dell'amore, attraverso Wanda, 8 novembre 2007, a cura di Vubi, creature mie dilette, posso dire di essere soddisfatto di voi che seguite le mie parole con amore e gentilezza d'animo, perché pensate che sia il vostro Maestro a guidarvi. Sì, in questo momento sono come inebriato nel vedere la corrispondenza delle mie creature e veramente non avrei argomenti con cui proseguire, perché le vostre anime sono impregnate di tanta energia che quasi si rifiutano di permettere alle vostre orecchie umane di ascoltare. Sarò breve perché possiate assaporare tutto quanto vi ho appena donato. Insieme al Padre e alla Madre, luce cosmica, cerco di far procedere le mie creature nel discorso evolutivo. Se le parole per voi sono comunque sempre soltanto parole e non ve' nessuna differenza tra i momenti spirituali e quelli del vivere normale, allora non c'è molto da fare. Il cammino è ancora lungo, ma io con la mia volontà posso guidarvi in meditazioni non troppo prolungate, perché è vero che più di tanto non possono durare, altrimenti la mente divagherebbe e non rimarrebbe concentrata, non essendo abituata a farlo. Voi da soli non riuscireste infatti a raggiungere quanto vi ho fatto raggiungere io in pochi istanti. In alto sono stato io a proteggervi da tutto ciò che potevate incontrare in quegli attimi del vostro cammino spirituale e continuerò a farlo, per permettere alla vostra coscienza di innalzarsi il più possibile verso le sfere infinite che compongono il cosmo.